Sono tanti i nodi da sciogliere per chiarire cosa sia accaduto ieri alla funivia del Mottarone. L'inchiesta della procura di Verbagna, condotta dalla procuratrice capo Olimpia Bossi e dal sostituto Laura Carrera, con i carabinieri dovrà chiarire due punti fondamentali. Il primo, come mai si sia rotto il cavo? E il secondo, come mai non sia scattato il freno di emergenza che avrebbe dovuto bloccare la cabina che secondo quanto riferito dai testimoni sarebbe rimbalzata indietro prima di cadere? I carabinieri del comando provinciale della stazione di Stresa hanno lavorato fino all'alba di oggi per raccogliere e preservare le prove, coprendo anche le lamiere per ripararle dalla pioggia e dagli agenti atmosferici. Tutta l'area, così come le stazioni di partenza e di arrivo della funivia, è sotto i sigilli della procura. In queste ore si stanno valutando i nomi delle persone da iscrivere al registro degli indagati, il fascicolo aperto per omicidio colposo plurimo e per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti pubblici. Al vaglio le posizioni delle tre ditte coinvolte nella realizzazione dell'impianto, i gestori attuali, la società che aveva fornito il materiale, che ha sede in Trentino Alto Adige, e la ditta della provincia di Varese che aveva effettuato l'ultimo intervento di controllo sull'impianto a novembre 2020. Al vaglio anche le posizioni della regione Piemonte e del comune di Stresa da chiarire se come sembrerebbe non sia stato formalizzato il passaggio di proprietà da parte della regione al comune come inizialmente previsto dopo gli importanti interventi sulla funivia che risalgono al 2016. Se così non fosse la proprietà dell'impianto sarebbe ancora della regione Piemonte. Probabilmente domani saranno nominati uno o più periti, esperti di impianti di funivie, che dovranno poi svolgere per conto degli inquirenti gli accertamenti e capire che cosa sia accaduto. Intanto la procura ha deciso di non disporre l'autopsia sui corpi delle 14 vittime all'obitorio del Castelli, ma soltanto l'esame esterno. L'esame saranno quindi, a breve, rimesse a disposizione dei familiari. Per l'ultimo saluto.